Ciao da Rosanna, la voce narrante con la faccia intorno. Protagonista di questo episodio della narratrice di sogni sarà Claudio Loreto con I segreti di Sharon Kot. Dopo la descrizione della trama leggerò per te un frammento tratto dalle pagine del romanzo. Buon ascolto! Primavera 2010. Una missione solitaria sprofonda una pattuglia motorizzata di alpini negli orrori della guerra afghana e ridesta nel capitano Emiliano Zanin il tormento di un amore tradito. Nello sperduto villaggio di Sharon Kot l'ufficiale si imbatterà infine in una terribile scoperta che rappresenterà tuttavia per lui la premessa per tornare a sorridere alla vita. Claudio Loreto. I segreti di Sharon Kot. Da generazioni quella del capitano Zanin era una famiglia di militari. Lui aveva scelto l'esercito. Il fante è il soldato per eccellenza, diceva. Così aveva sostenuto e superato i difficili esami di ammissione alla scuola militare Pietro Teulier di Milano nella quale avrebbe svolto gli ultimi tre anni di liceo scientifico. Erano stati tre anni duri. Emiliano aveva però stretto i denti ed era giunto in fondo. Solo che ciò che lo attendeva all'accademia militare di Modena sarebbe stato ancora più gravoso. Il giovane aveva cominciato a respirare un po' dopo due anni quando, già con i gradi di sottotenente, era stato spedito a Torino alla scuola di applicazione dell'esercito, ospitata nell'antico arsenale, per conseguire, presso la locale università, la laurea specialistica in scienze strategiche. Nelle ore trascorse in Ateneo, nuovamente in mezzo ad una variegata folla di ragazzi comuni, aveva riassaporato il piacere di chiacchierare di cose ordinarie, o di ridere liberamente dietro a qualche sciocchezza. Ma lì, soprattutto, aveva scoperto l'amore. Forse anche a causa di tanto precedente isolamento, esso era esploso dentro il cadetto come una bomba. Rebecca era davvero bella. Era slanciata ed aveva un portamento elegante. Quando camminava per la strada, con quella lunga treccia bruna da scuo che le ondeggiava sulla schiena, attirava gli sguardi su di sé come una calamita. Ed era solare. L'entusiasmo non l'abbandonava mai, così come la fiducia nel futuro. Il suo libretto universitario, poi, era pieno di trenta con lode. Con lei la vita di Emiliano era cambiata. I tanti, rigidi obblighi che governavano le sue giornate all'interno del grigio arsenale, come per incanto, erano diventati sopportabilissimi. Tanto fuori c'era la fidanzata. Il buon umore lo accompagnava per tutto il tempo ed ogni cosa intorno sembrava più bella. In una parola, era innamorato. Pazzamente. E la ragazza era altrettanto bisognosa di lui. Quando al militare, nei fine settimana, veniva concesso di pernottare fuori dalla caserma, con l'automobilina di lei i due giovani fuggivano da qualche parte, in genere in casettine di montagna, in cui potere rimanere soli soletti. Dopo aver fatto all'amore, mentre gli massaggiava le poderose spalle con le sue belle mani affusolate, la ragazza si divertiva a stuzzicare il compagno. «Mi ami?» «Sì», rispondeva Emiliano, godendosi ad occhi chiusi quelle dolcissime carezze. «Quanto?» «Tanto». «Banale». Ripeto la domanda. «Quanto?» «Tantissimo». «Che delusione», sospirava lei smettendo di coccolarlo. «Immensamente». Cercava allora di rimediare lui per poter riessere subito vezzeggiato. Fuochino. Da togliermi il respiro quando ti guardo. Proseguiva quindi Emiliano. «Da comprendere ogni volta che te ne vai di non poter più vivere senza di te». Ed era la verità. «Ele ci voleva tanto, signor sottotenente», rideva allora Rebecca, distendendosi al suo fianco. Poi si accucciolava tra le sue braccia e si addormentava serena. Per loro il tempo sembrava essersi fermato, ed invece era letteralmente volato. Nella primavera del 2005 la laurea di Emiliano era ormai alle porte, e con essa il grado di tenente, l'assegnazione ad un reparto operativo, e dunque l'inizio per lui della reale professione militare. Con Rebecca erano così iniziati i primissimi discorsi di una vita insieme, una volta conosciuta la destinazione del soldato. Intanto, otto mesi prima il papà del ragazzo era stato trasferito giusto a Torino, come numero due al comando regionale Piemonte delle Fiamme Gialle. Di lì a poche settimane questi, poi aveva tuttavia deciso di mettersi in pensione. Tutto stava dunque procedendo splendidamente, finché, dall'oggi al domani, Rebecca non lo aveva piantato per un altro. Cinque mesi più tardi il papà, sprofondato nel frattempo in una forte depressione post congedo, si era sparato un colpo alla testa. Intorno ad Emiliano, il mondo di colpo era andato in mille pezzi. Sì, mentre posava il piede sulla pista d'atterraggio di Herat, nell'Afghanistano occidentale, il capitano Zanin era consapevole di non aver lasciato a casa proprio nulla da poter rimpiangere.